e gestita tutta dal CEIS e ci sono stati, ma stanno, altre richieste da parte di altri comuni nel senso che è un'iniziativa replicabile e probabilmente anche appetibile probabilmente si potrebbe essere allargata sicuramente in altre zone del Mecentino e non solo e un'ultima cosa rispetto appunto al valore di tutto probabilmente di questo progetto è il fatto che ha una valenza per i ragazzi, ha una valenza per il territorio e per altri planeti nel senso che avere anni a nuova, giovani che entrano all'interno di un limite che portano idee nuove, punti di vista anche diversi, è qualcosa che ci rinnova e poi vuol dire che qualcuno si ferma anche a fare il contrario, molte esperienze forti non sono cifre enormi, però una buona percentuale continua a distanza di tempo oltre a questo bisogna dire che qualche soluzione, dopo esperienze forti non vedo il problema che si è verificata, perché guardano cifre enormi però il percorso ha anche un senso, diciamo, di approccio appunto all'alunità grazie grazie